Per preparare un buon banchetto etrusco servono alcuni elementi fondamentali dell'acqua limpida e fresca che sgordi dalle sorgenti del buon vino per brindare con gli amici e del sale per insaporire le vivande dell'olio di quello profumato per condire e del grano per fare del pane fragrante e infine i boschi per raccoglierne i frutti il nostro viaggio per trovare tutti questi ingredienti comincia da qui da questo posto un po' magico Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!